Abbazia di Santa Maria di Castagnola a Chiaravalle. Siamo nelle Marche e nell'ultimo giro che ho fatto nelle Marche, al solito alla ricerca di particolari di bellezza, ho deciso di fare una deviazione per andare a dare un'occhiata e fare qualche scatto a questa Abbazia di Chiaravalle di Ancona che mi richiamava alla memoria la più famosa Abbazia di Chiaravalle del Milanese che è così ricca di storia e di bellezza. Le due facciate si somigliano in qualche modo fatte ovviamente alle dovute proporzioni. Così ho realizzato alcuni scatti che vi propongo. Buona visione. Fondata nel 1147, conserva il suo stile romanico-gotico. Ci presenta una facciata suddivisa in tre ordini. Il primo rappresenta un porticato coperto da un tetto spiovente. Il secondo è occupato dal grande rosone circolare di reminescenza gotica. e l'ultimo è costituito da un timpano triangolare con al centro un elegante bifora che è il particolare che più mi ha colpito e intrigato. Il primo rappresenta in tre ordine. 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 Grazie a tutti.